Buonasera Ben, ritrovati ad un nuovo spazio dedicato alle notizie dal Veneto e agli aggiornamenti. Il Veneto continuerà al momento a rimanere in zona bianca, ma fino a quando? Intanto sentendo i numeri, tanti se lo domandano, non sarà così invece per alcune regioni vicine come il Friuli Venezia Giulia che dal lunedì passerà al colore giallo e in giallo passerà anche la provincia autonoma di Bolzano dove la situazione è estremamente peggiorata. Così come quotidianamente sta peggiorando il Veneto. Allora sentiamo il bollettino con i dati delle ultime 24 ore. Abbiamo purtroppo superato la soglia dei 2000 casi giornalieri. Il Veneto supera la soglia dei 2000 casi di Covid-19 in 24 ore. Sono 2066 i nuovi positivi, 8 i morti nel solo Veneto a causa del Covid-19 in un giorno. I numeri dimostrano che il virus sta avanzando in maniera preoccupante. Crescono i pazienti costretti al ricovero. 449 si trovano nei reparti con 18 nuovi ingressi, mentre in terapia intensiva i pazienti sono 85, più 7 in un giorno. Numeri che fanno paura e che devono far riflettere sulle misure di precauzione che ognuno di noi, al di là delle regole imposte, dovrebbe osservare. E dalla mezzanotte entrerà in vigore a Padova l'uso obbligatorio della mascherina. Il sindaco Sergio Giordani ha firmato l'ordinanza che aveva preannunciato alcuni giorni fa. Troppe le presenze nel centro cittadino e si rendono necessarie misure di precauzione, considerando anche l'affollamento previsto per le iniziative natalizie. Un'azione responsabile che richiede un piccolo sacrificio, ma per il bene comune. La situazione Covid rimane preoccupante anche nella gestione delle scuole. Un esempio Vicenza, dove sono al momento 74 le scuole coinvolte che hanno problemi. Il bilancio in questo momento è di 34 classi ufficialmente in quarantena e di 850 ragazzi che devono stare in isolamento. I vaccinati, stando alle ultime disposizioni, dovranno rimanere in isolamento per una settimana e non vaccinati per 10 giorni. I casi principali riguardano le scuole elementari, ma in successione seguono le scuole superiori, medie, materne e in coda con pochi casi asilo nido. Ma servirà il Super Green Pass per contenere il Covid-19? Il servizio. Servirà il Super Green Pass per contenere il Covid-19? Le nuove restrizioni introdotte dal governo Draghi puntano a proteggere la popolazione vaccinata e mirano a portare chi ancora è sprovvisto di protezione a prenotare la propria dose. Una lotta contro il tempo nella quale bisogna fermare il nemico subdolo che avanza e che sembra aver rialzato la testa in maniera ruenta. Lo sanno bene medici e infermieri che quotidianamente nei reparti si trovano a tu per tu con le conseguenze del virus. In Veneto, Padova è la città più penalizzata. Il reparto di terapia intensiva dell'azienda ospedaliera è saturo e sono in apertura, come nella precedente ondata, nuovi reparti in supporto. Una situazione tragica già vista e per combatterla ci vuole l'impegno di tutti noi. Il governo afferma che non ci saranno chiusure, ma evitare peggioramenti che inesorabilmente potrebbero avere conseguenze per tutti dipende dai comportamenti di ognuno. E sta lottando in un letto d'ospedale contro il Covid. Un uomo di 56 anni, riferimento dei Novax, ricoverato nell'area sub-intensiva nel settore Covid dell'ospedale di Vittorio Veneto. E' stato trasferito nell'unità di medicina dopo aver riscontrato problemi respiratori che sono diventati sempre più seri. Le terapie a casa non sono stati sufficienti e quindi è stato sottoposto a respirazione assistita. Tombolo continua a ricordare Ennio Doris. La notizia della sua scomparsa si è diffusa in poco tempo e quasi ogni persona in questi giorni sta ricordando un dettaglio. Qualcosa che porta alta la memoria di quest'uomo che non si è mai staccato dal suo paese natale. Quel paese che in questi giorni gli sta esprimendo davvero tanto affetto. L'uomo che ha costruito la banca innovativa senza sportelli e che da qualche anno viene guidata dal figlio. I funerali si svolgeranno proprio nella sua tombolo nella giornata di sabato. Un uomo di 81 anni e la moglie di 74 anni sono stati ricoverati in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla vecchia statale del Santo. La loro automobile si è scontrata con un furgone. Immediato l'intervento dei soccorsi. Due coniugi sono in due diversi ospedali e hanno riportato ferite gravi. La dinamica dovrà essere ricostruita in seguito ai rilievi effettuati dalle forze dell'ordine intervenute sul posto. 25 novembre giornata internazionale contro la violenza sulle donne e il servizio. Giornata di iniziativa in tutto il paese per celebrare il 25 novembre giornata internazionale contro la violenza sulle donne. I numeri sono tragici. Una donna uccisa ogni tre giorni. E poi c'è tutta quella violenza apparentemente sommersa, fatta di botte, ricatti, abusi che non può più essere tollerata. Negli ultimi anni è stato fatto molto ma non abbastanza perché le violenze non si fermano e perché ancora troppe donne sono state uccise. In questi giorni la macchina della sensibilizzazione si sta muovendo. Bisogna istruire alla consapevolezza e all'educazione della non violenza. Bisogna continuare ad attuare reti che devono garantire protezione, ma bisogna garantire anche le condanne a chi deve spiare una pena. Tra gli obiettivi della giornata del 25 novembre anche l'insegnamento alla vittima a non avere paura di ciò che si sta vivendo, a non vergognarsi e a trovare il coraggio di denunciare. Nelle principali città sono scese in piazza tante squadre della Polizia di Stato per fornire supporto e dare informazioni. Si chiama reddito di libertà. In pochi lo conoscono ma è stato istituito nel 2020 ed è destinato alle donne vittime di violenza senza figli o con figli minori. seguiti dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza al fine di contribuire a sostenere la loro autonomia. La misura infatti consiste in un contributo economico stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite concesso in un'unica soluzione per un massimo di 12 mesi, finalizzato a sostenere le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli e delle figlie minori. La misura inoltre è compatibile con altri strumenti di sostegno a reddito. Ovviamente noi stiamo dedicando una serie di programmi televisivi proprio a questo argomento davvero molto difficile ma del quale bisogna assolutamente parlare. Lo abbiamo fatto durante queste serate, lo faremo ancora a partire dalle 21 e lo abbiamo fatto anche nella trasmissione Pulsara di oggi pomeriggio alle 13 e 15. In chiusura abbiamo incontrato il professor Marco Monzani, giurista e criminologo, che ha parlato di questo grave fenomeno con Daniela Gregnanin. Marco Monzani, criminologo dello Iusve, quindi un'attività importante, la sua di ricerca di confronto nella giornata come quella di oggi, che è il 25 novembre, una giornata dedicata alla lotta, alla violenza sulle donne. La sua esperienza la porta a capire che cosa oggi? Mi porta a capire che c'è bisogno di lavorare tantissimo sulla consapevolezza delle future, si spera di no, vittime di violenza. Quindi la mia esperienza mi porta a dire che la strada giusta non è quella dell'inserimento nel nostro codice penale di nuove fattispecie di reato, così come non lo è l'inasprimento delle pene, ma la strada giusta è una strada che parte dall'educazione rispetto all'interno delle relazioni, quindi con un percorso di tipo educativo e culturale che insegna ai giovani di oggi rispetto all'interno delle relazioni. Ci vorrà più tempo rispetto a una repressione forte, però i risultati credo che potrebbero essere sicuramente migliori. La strada non è quella normativa, abbiamo già visto che non funziona, abbiamo già visto che è fallimentare. Il cosiddetto decreto contro il femminicidio, che in realtà non è un decreto contro il femminicidio, ha dato risultati assolutamente deludenti, la strada è una strada di tipo culturale ed educativo. Professore, questa è la domanda delle domande, quanto ci vorrà? Perché se sappiamo che il riscaldamento globale ci dà 20 anni, forse anche non ci dà più niente, per un cambio così importante e culturale, quanto tempo fa? Ci vorrà tempo, ci vorrà tanto tempo, ma ne sarà valsa la pena. 20-30 anni anche qui? Non lo so, spero molto meno. Grazie professore, grazie. Paolo Noventa, fratello di Isabella Noventa, uccisa dall'uomo che amava. Isabella è entrata nel cuore di tutti noi. In carcere ci sono tre persone, lo ricordiamo, ma il corpo suo non è mai stato ritrovato. Per l'ennesima volta la famiglia lancia un appello. Abbiamo chiesto anche al fratello a che punto sono le indagini. Una giornata speciale, oggi è il 25 novembre, dedicata alla lotta, alla violenza sulle donne. Siamo in compagnia di Paolo Noventa, fratello di Isabella Noventa. Paolo, a che punto stiamo? Le indagini per ora sono ferme, sono ferme. Non si fermeranno mai, però non ci sono indizi, non ci sono spunti investigativi da poter proseguire per la ricerca del corpo. Poi tutto il resto è chiaro. Lei li sa in carcere? Sì. Li vuole lì? Per ora sì, per ora. Ha paura che si possa cominciare a soffrire di sconti di pena? Si parla di anni solari? Ma gli sconti di pena ci sono, purtroppo ci sono. Da 30 anni ho già fatto il calcolo che ne faranno 22-23. Dopo 15 avranno i primi permessini. Io dico, 20 anni non sono neanche pochi di carcere. Si servono per rieducare una persona. A timore? A timore che non siano rieducativi? Beh, secondo me per loro non saranno molto rieducativi. Certo che 20 anni di vita lì dentro non sono pochi. L'importante è che siano almeno 20. Se gliene danno 30 che ne facciano almeno 20. Lei conta soprattutto sulla giustizia? Calcolando l'età che hanno e tutto, usciranno innocui, credo. Lei dice che non saranno in grado di uccidere più qualcun altro? Insomma, non è una certa età, dopo non è che poi faremo. Ah, quindi novità, non ce ne sono, l'unica sarebbe quella di recuperare questo corpo? Si. Allora, l'appello qual è? Perché anche se sono passati anni, qual è l'appello? L'appello è che qualcuno se sa qualcosa, se gli viene in mente qualcosa, se scavando nei cassetti della memoria, chi conosce Freddi, chi ha frequentato quelle persone, ha qualche spunto da dare, che lo dia, che si rivolga alla questura. Anche in forma anonima. Anche in forma anonima. Bene, ringraziamo Paolo e ci aggiorniamo magari su avvenimenti che ci possano aiutare a chiudere questo cerchio. Grazie. Grazie a voi. A Treviso tornano le complicanze a causa del personale sanitario che deve essere dirottato verso le emergenze provocate dalla Covid-19. Così per alcuni mesi chiude il reparto dei surgery destinato agli interventi non urgenti, situazione che probabilmente si ripeterà anche in altre città. Uno sguardo alle condizioni meteo previste. La caratteristica di questo periodo è l'ingresso dal nord-ovest di una significativa circolazione ciclonica che sta portando aria fredda sulla regione e quindi avremo nubi e un po' di precipitazioni. Dopo l'afflusso di correnti relativamente miti fino a venerdì il clima comincerà a diventare più freddo a partire dai monti. È tutto per questa edizione del telegiornale Veneto. Vi ricordo l'appuntamento con la diretta Violenza contro le donne ora basta in collaborazione con il Comune di Limena alle 21. Vi aspettiamo intanto. Buona serata più tardi. Grazie a tutti.